Grazie a tutti. Ci danno per persi, ci danno per morti, per dispersi, ma non è così, non sarà così, ci danno perdenti, delinquenti, ci danno per stolti, inconcludenti. E questa è la teleferica che dal sito di prato giorno, che è dal sito di deposito dei materiali, porterà fino al Montenizio, la carriera paradiso. E non sarà così Resistiamo ora, come allora Come allora, combattiamo ora Senza posa, senza posa Combattiamo adesso, io mi aspetto Io ci metto tutto me stesso Siete solo poveri soldi Che pensate solo ai soldi Che pensate ai vostri affari E attorno a conti personali Qui Ti aspettiamo qui Noi viviamo qui Qui Ti aspettiamo qui Qui Ci danno per tutti Qui Ci danno per tutti Qui Ci danno per tutti E non sarà così 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 a pres di dracunai se è un caizì ha chiamato amassato che continua a battaglia a pres di dracunai